La partita avrà inizio tra un'ora e quaranta minuti. Ricordiamo che i programmi sono... Avevi detto che avresti badato a me. Ma se hai detto che non ti serviva la palia. Ti spaccherete il culo! Ti spaccherete il culo! Ti spaccherete il culo! E' pallo! E' pallo! Troccio! E' panno il culo! E' panno il culo! Ma l'ho detto! Vai contro il pallone! Forza Arsenal! Spagliere o no! Che di cazzo! Risultato alla fine del primo tempo. Ti ci abituarai? Non ci tengo proprio ad abituarmici. Grazie. Come sta andando Liverpool Forest? Non lo so, ci sono dei casini. Devono ancora cominciare. Ecco qua. Hai sentito di Esbolo? Me lo stava dicendo quello. Uno con la radio ha detto che ci sono anche dei feriti. Dai, ma che è successo? Non lo so. Sììììì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allo stadio Esboro di Sheffield. 74 fino a questo momento le vittime accertate. Tutti tifosi del Liverpool rimasti schiacciati nell'arressa mentre altre centinaia venivano sospiti sul campo di gioco. Innumerevoli i feriti ricoverati negli ospedali della contea. L'allenatore del Liverpool, Kenny Dolglish e il suo collega del Nottingham, Brian Clough, sono addolorati.